Torniamo a parlare di One Piece, amici, ma sempre della serie live action di Netflix e sempre guardando un pochettino il futuro, perché insomma abbiamo recensito la serie, trovate la recensione sia sul nostro canale YouTube, sia su TikTok, sia anche ovviamente sulle pagine della sezione serie TV di Avriai.it, abbiamo anche parlato di quelle che sono le aspettative per la seconda stagione, ad esempio la storia, gli archi narrativi che la serie Netflix dovrà riadattare dal manga a live action ma questa volta parliamo degli aspetti che la serie dovrebbe migliorare quel tempo. Perché sì, One Piece è un successo stratosferico, uno dei migliori debutti di sempre sulla piattaforma streaming, un successo contemporaneo in 84 paesi e schizzato dopo pochi giorni in cima alle classifiche, questo si trasforma ovviamente in un successo clamoroso per Netflix e per tutto il progetto della live action di One Piece. Non è ancora chiaro come tutto questo successo, ma su questo diciamo Netflix ha sempre mantenuto un po' il segreto, come si traduce effettivamente in soldi, in incassi per il prodotto. Cioè in che modo le visualizzazioni stellari, in questo caso di un titolo, si trasformano in soldi da reinvestire nel budget delle prossime stagioni. In ogni caso, vista l'accoglienza gigantesca che il pubblico, che tutto il mondo, che i fan, ma anche i non fan, stanno riservando al prodotto, è chiaro che One Piece in versione live action nelle prossime stagioni, quantomeno nella seconda, ammesso che Netflix la rinnovi, sembra ormai scontato, vi ricordo che nel momento in cui vi parlo Netflix non ha ancora rinnovato ufficialmente One Piece per una o altre o più stagioni, però è chiaro che in vista delle prossime puntate, in vista almeno di un altro blocco narrativo, le ambizioni e in questo caso gli investimenti devono alzarsi. Devono alzarsi perché di fatto la prima season di One Piece adatta una fase molto embrionale della storia di Oda, quella in cui viene settato il mood, viene settato il world building, debuttano i primi protagonisti, c'è la costruzione di tutto un gruppo che poi inizia di fatto un viaggio, e c'è anche, diciamo così, una sorta di costruzione di una piccola parte di quel mondo enorme e gigantesco che è One Piece, che è la creatura che Ichiro Oda ha creato negli ultimi 25 anni. La prima stagione di One Piece comincia, micro spoiler per chi ancora non l'ha finita, ma non è un segreto per chi già conosce la storia, con l'ingresso dei protagonisti, anzi non proprio, con l'inizio del viaggio verso l'ingresso della rotta maggiore. Un vero e proprio punto zero per l'avventura perché è da quel momento che cominceranno le minacce più serie, gli archi narrativi più emozionanti, i momenti più importanti, anche le rivelazioni più grossi, un viaggio che dura da 25 anni, continua ancora adesso, ma di fatto la seconda stagione di One Piece dovrà essere la stagione della conferma, della consacrazione e anche dell'ingresso in scena di alcuni dei personaggi dei momenti più memorabili e degli archi narrativi più memorabili. In un precedente video avevo già provato a ipotizzare come tutta la seconda season di One Piece dovrebbe in qualche modo concentrarsi sullo scontro tra i pirati di Cappello di Paglia e la Baroque Works, quindi tutte le prime isole della rotta maggiore fino ad arrivare alla macro saga di Alabasta, che poi vede inevitabilmente Luffy scontrarsi con Crocodile, che è uno degli antagonisti principali della prima parte di One Piece. Ecco, già a partire da questo le ambizioni della serie devono crescere a dismisura, la serie deve migliorare da un punto di vista degli investimenti e anche dell'ottimizzazione del budget. Sicuramente dalle prossime season sarà tutto molto più impegnativo, per una serie di motivi. Innanzitutto cresce il warbuilding e si passerà attraverso scenografie anche molto diverse tra loro, banalmente basti pensare che si passa dal regno di Droom che è innevato a quello desertico, medio orientale, diciamo così, di Alabasta nel giro di poco tempo, da un volume all'altro, in questo caso da una puntata all'altra. Senza contare che iniziano a comparire anche i personaggi più strambi, le creature più strane, i guerrieri anche più bislacchi da un punto di vista dei poteri, dei loro frutti del diavolo, o semplicemente anche situazioni di messi in scena molto più complesse da portare su schermo. Basta fare un esempio tra quello che è il main villain, il principale antagonista della prima stagione, Arlong, l'uomo pesce, con quello che potrebbe essere l'antagonista di maggior peso della seconda stagione, Crocodile. È vero che per Arlong, insomma, è stato fatto un lavoro importante a livello di trucco, di make-up, di costumistica, ma di fatto Arlong è un nemico muscolare. La battaglia finale tra Luffy e l'uomo pesce è una battaglia fisica, di puri pugni, messa in scena anche abbastanza bene alla fine della prima season. Già Crocodile è un nemico più impegnativo, perché Crocodile di fatto è un uomo sabbia, ha mangiato il frutto sans hand e può trasformare il suo corpo in sabbia. Le sue mosse più iconiche, il suo modo di combattere sfrutta il fatto che lui è in grado di trasformarsi in sabbia e può anche controllare la sabbia sotto di sé. Già questo apre a dei scenari complicati a livello di messi in scena, tenendo conto che One Piece deve migliorare e deve crescere anche da un punto di vista della regia. Regia che non deve essere per forza il focus principale produttivo della seconda stagione. Ripeto, One Piece stagione 1 non brilla da un punto di vista delle inquadrature, alle volte ci sono delle soluzioni un po' troppo estrose, quando magari bastava fare un lavoro più scolastico. Ecco, la ricerca forse di inquadrature più complicate, più complesse, più in qualche modo vagamente autoriali, ha finito col dare forse una scarsa identità al prodotto, proprio perché non c'erano idee concrete a livello di regia. In ogni caso va bene così, è un prodotto action, è un prodotto pop e non deve spingere particolarmente da quel punto di vista. Un minimo di impegno in più ci vuole e in questo basterà semplicemente imprimere delle idee a livello artistico più convincenti e magari ingaggiare registi che in qualche modo riescano a dare un'impronta di maggior carattere al prodotto. Ma il problema vero sta proprio nel budget investito banalmente nella CGI. Bisognerà fare scenari più complessi, creature particolari. Già se pensiamo all'introduzione di Chopper, che di fatto è un'arena umanoide, ci si chiede come sarà possibile dargli un'estetica coerente e che soprattutto non stoni con tutto il resto. Do per scontato che Chopper ad esempio debba essere realizzato interamente in CGI o magari con una commissione tra animatronic e computer grafica, un po' come è successo con i lumacofoni. L'effetto però non deve essere straniante, in primis perché Chopper è di fatto la mascotte dei pirali di cappello di paglia, è un personaggio amatissimo proprio per la sua cucciolosità passatevi di termine. Ed è comunque uno dei protagonisti dell'opera, è uno dei principali compagni di Luffy, non possono sbagliare e soprattutto è un personaggio che compare tantissimo al fianco di Luffy. Quindi dal momento in cui arriverà Chopper ci si aspetta che Chopper compaia su schermo tantissime volte, il più delle volte. Senza contare che poi arriveranno personaggi con poteri sempre più stravaganti. Penso non soltanto a Crocodile con la sabbia, ma anche a Mr. Tree con la cera, visto che c'è una scena nel manga molto iconica in cui il potere della cera di Mr. Tree crea non pochi grattacapi ai pirati di cappello di paglia. Poi c'è la questione giganti, ad esempio. Dory e Broggy non sono personaggi fondamentali per questa parte della storia, ma lo saranno più avanti. E quindi che succede? Nel corso della prossima stagione verranno tagliati? Oppure se verranno messi in campo, come verranno rappresentati? Di fatto sono dei giganti guerrieri. Quindi a livello di messi in scena, a livello di CGI, perché per realizzare i due giganti devi inevitabilmente utilizzare la CGI, le sfide da superare non sono per niente scontate. Poi c'è anche tutta una questione relativa alla condensazione degli eventi narrativi e del ritmo. Ci sarà per esempio tutto? Ci sarà Whiskey Peak prima del Regno di Drum? Ci sarà l'isola con Dory e Broggy? O magari verrà compresso il tutto? Così come anche Rogue Town. Mi aspetto che la prima puntata della seconda stagione di One Piece sia dedicata interamente all'arrivo a Rogue Town e allo scontro con Smoker. Smoker, altro personaggio con un potere particolare, quello del fumo, si intravede alla fine della prima stagione, ma chiaramente quello è un cameo che prepara al suo ingresso in scena. Sarà interessante vedere come nel live action renderanno lo stile di combattimento di Smoker. Insomma tutti quelli che sto elencando sono degli elementi su cui è ragionevole avere dei dubbi ed è ragionevole pensare che Netflix dovrà investire un budget ancora maggiore per una messa in scena coerente, funzionale, ma che soprattutto non crei un effetto da B-movie, un effetto straniante. Perché finora ci siamo fatti andare bene sicuramente un po' l'effetto cosplay, una costumistica non sempre a fuoco, qualche effetto speciale che non sempre viene reso bene, che però per fortuna viene compensato da altri, per esempio i poteri del frutto Gangnam di Luffy sono fatti piuttosto bene e ci mancherebbe il protagonista. Ma questa qualità deve mantenersi costante nel corso di tutta la serie e tenendo conto che più si va avanti, più One Piece diventa complesso, spettacolare e stravagante, bisogna anche rendersi conto che la serie dovrà crescere tanto, proprio da un punto di vista dell'investimento produttivo. Se già pensiamo che nel corso della prossima stagione potrebbe comparire Ace, per esempio, che è un uomo di fuoco che utilizza mosse di fuoco anche molto spettacolari, insomma, dobbiamo aspettarci dei passi in avanti da gigante, passatemi il termine, passatemi un po' il gioco di parole, che dovrebbero essere scontati ma che in realtà non lo sono perché sarà molto difficile portare in scena tutti questi elementi. Insomma amici, vediamo un pochettino che cosa succede, io vi ricordo che potete lasciarci un vostro feedback qui sotto, se questo video vi è piaciuto, se vi piacciono i nostri contenuti lasciateci un commento ma anche un like, ci aiuta molto, ma soprattutto iscrivetevi al canale di Evrae Plus se non l'avete ancora fatto e se volete rimanere aggiornati sulla nostra produzione video cliccate anche sulla campanella delle notifiche. Vi ricordo che One Piece è uscito su Netflix dal 31 agosto, il rinnovo della seconda stagione non c'è ancora stato ma potrebbe avvenire a breve e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!